Me ne so, tranquillissimo a vedere un programma mio e arriva sul mio telefono la notizia 15 punti di penalizzazione alla Juve. Mamma mia, finalmente giustizia è stata fatta! Finalmente giustizia è stata fatta! Finalmente non si guardano più le vostre farlocche di merda, brutti gobbi ladri bastardi di merda figli del peccato! Brutti gobbi di merda bastardi! Finalmente giustizia è stata fatta! Finalmente giustizia è stata fatta! Gobbi di merda! Gobbi di merda! Finalmente giustizia è stata fatta! Finalmente Calciopoli 2.0 forse sta per riaccadere! Finalmente il rigore di Ronaldo è stato vendicato! Pezzi di merda! E adesso voglio vedere proprio come fate all'ottapela Champions con 15 punti di penalizzazione, è stata addirittura dietro la Fiorentina a 7 decimi in classifica adesso! Mamma ve lo ciulate proprio tutto! Mamma come godo! Come godo! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Mamma come godo come un porco, madonna! Mamma me lo godo!